Molto strano, fuori di seno, occhi da pazzoide, più svitato di un bulone. Beh, si è accorto che io lo guardavo, ha fatto cadere questo ed è scappato, tutto, ciapa. Oh, biondo albione, ho l'impressione che questo caso supera persino le vostre capacità, tanzella. Accetto con gioia la sfida, spettore. Allora state buone. I ambelli, voglio avvicinare l'indiziato per quel rapimento di minore. Io non crescerò mai. In galera crescerai. Sì, riconosco quest'arma, era parte di un set che ho venduto, le famose sette spade di Osiride. Ora le interesserebbe un bel romanzo illustrato, include anche un'avventura del giovane Davide Diligente. Vando alle ciance, uomo, devo sapere chi ha comprato quelle spade. E va bene, controllerò i registri. Potete dare un'occhiata alle mie curiosità, ma non alle bizzarrie e attenzione ai miei dindoli. Per la barba di Belzebù conosco questi missionari. Ho solo detto agli indigeni che facevano sesso in modo sbagliato. Aiuto, aiuto, assassino! Il mostro Basettoni se le giace a gambe, ma questo registro ci congiurrà a lui. Questa pozione mi darà nuova vita. Sono vivo! Me ne andrò in America, sfonderò nel cinema, lo vedrete. Il mondo intero conoscerà il nome di Simon Sgabellovitz. C'è scritto che le spade furono vendute a C. Ebenezer Burns. Burns? Il perfido industriale che ricava carbone dai bambini? So dove trovarlo! Ebenezer Burns, sì, da questa parte. Come andiamo, bello? Vuoi fare il bis? A qualcuno serve un'antiestasi? Ehi, attento, amico! Un topo ti rossicchi all'alluce! La spada di Osiride. Una volta possedevo l'intera collezione, poi l'ho venduta per comprare oppio. Come vorrei riaverla per acquistare altro oppio? A chi avevate venduto le spade? Al ciccione con i basettoni. Vedete, eccolo lì. Eccolo lì, il mostro basettoni! Eccolo lì, il mostro basettoni!